Grazie a tutti. Sono dei più vicino a noi e credo che con la loro presenza affettino l'interesse dell'amministrazione, nel caso dell'assessore, del voto della scuola, nel caso del professor Pallarino e quindi vi tengo rappresentanti di tutto il mondo inizionato e ringrazio alla stessa parte delle televisioni eventualmente presenti per la migliore diffusione di misericordia stessa. Grazie. Prova. 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 storia e quindi saranno presenti, sono presenti sul nostro numero. Appunto l'esco marino, l'Italia, ci occuperemo di caccia ovviamente del Napoli, sarà una rubrica che genererà la spazioale Lucchese, ci occuperemo di costume, più o meno le pagine dedicate saranno sempre posizionate le stesse, la statica verrà posta, città anche a questo Simonetti che collaborerà con noi e che opererà le associazioni di protezione ideale, la statica verrà posta sempre all'esco dentro in un'ottima pagina. Qui abbiamo un ospedonimo che darà la voce di una persona attenzia e quindi è platica e quindi accoglietela in modo erotico e in modo divertente anche. E poi una pagina di una rubrica di musica che si aprirà anche con una rubrica di cinema che si aprirà appunto da un elemento giovane del nostro giornale. Io volevo passare prima la parola a Pazzo, poi alla fine insomma daremo la parola al professor Palladino e a Riccardo Dottor Dottor Dottor. Grazie. Ok, grazie. Grazie. Grazie.